Richieste di condanna fino ad un massimo di 12 anni e 8 mesi di reclusione sono state chieste ieri dai PM a Narita Mantini e Giuseppe Bellelli al termine della loro requisitoria nel processo in corte d'assisi a Chieti relativo alla mega discarica di rifiuti tossici rinvenuta nel marzo 2007 a Bussi sul Tirino. Sul banco degli imputati il processo si è svolto a porte chiuse, 19 persone, quasi tutti ex amministratori e vertici della Montedison che gestiva il sito industriale a Bussi. Le accuse sono di avvelenamento delle acque e disastro ambientale colposo. La condanna più pesante è stata chiesta nei confronti di Carlo Cogliati, 75 anni all'epoca dei fatti, amministratore delegato protempore di Ausimont. Quella più lieve, 4 anni, per Nicola Sabatini, 87 anni, vice direttore protempore della Montedison di Bussi. Assoluzione solo per Maurizio Piazzardi, 42 anni, perito chimico. La giornata di ieri in corte d'assisi a Chieti ha fatto registrare anche la presenza del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Sono venuto perché voglio testimoniare tutto l'interesse e il coinvolgimento istituzionale dell'ente regione, sapendo che non è un qualsiasi processo per l'accertamento di una verità qualsiasi. È un processo centrale nella vita della regione Abruzzo e riguarda un bene irripetibile nella vita degli abruzzesi. Tornerò di nuovo dopo perché voglio rendermi conto anche di qual è il bisogno delle istituzioni di vicinanza tra le istituzioni per concorrere all'accertamento della verità. Personalmente, ma anche giuridicamente, per quello che rappresento come persona giuridica della regione, mi sento molto convocato dal lavoro serissimo di quest'Aula di Giustizia. Ho già fornito la mia collaborazione nei confronti di coloro i quali rappresentano qui la posizione della regione.